Nel mio programma c'è la chiusura dell'area a caldo, primi 100 giorni, contratto firmato, faccia una fotocopia se la tenga. Ma come potete pensare, cari concittadini, che uno chiude una feriera, un'area a caldo in 100 giorni? Ma io potrei domani mattina fare un'ordinanza? Ma io potrei domani mattina fare un'ordinanza? E continuiamo a dire che non si può, io non posso perché non ho il coro, io non posso perché non ho il coro, io non posso perché non ho il coro. Chiaro, no? Chiaro, no? Chiaro, no?